Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Call of Duty Black Ops 2 per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è giovedì 9 giugno, sono le ore 19 e sono online su questo titolo, pronto a giocare con voi Ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi Perfetto ragazzi, il primo match lo giocheremo nel famoso yacht di Call of Duty Black Ops 2 Deathmatch a squadre, come sempre, siamo in acque internazionali, quindi tutto è permesso Ok, si parla, devo un attimo ricordarmi i comandi, ho appena terminato di giocare con voi su Splatoon E i comandi sono leggermente diversi Attenzione, attenzione mamma mia come è laggato Ce n'è uno lì, preso, ha tentato di fregarmi eh Però mamma mia come è laggato Ho eliminato Guardate che passiamo esternamente, visto che c'è questa possibilità qua Lanciamo una bomba, anzi un segnalatore Ce n'è uno là Secondo me è un cecchino infatti, è un cecchino Si vabbè, ho sparato per terra Ho sparato per terra, non ci credo Ho sparato per terra, qui si può sparare anche attraverso il muro Le spalle Ce n'è uno là dietro No, 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 ho sparato malissimo Eh, vabbè, stavo sparando da tutta un'altra parte Ogni tanto quella che mi manca è la mira eh Mi manca un po' di mira ogni tanto Cioè, guardate qua che roba E stavolta sono già migliorato Ok, la bomba qua lasciamo perdere Perché poi alla fin fine è quella lì, è una bombettina Duttagli questa Oho, che colpo! Gliel'ho tirata sul naso Sul naso Qua! Che caspita era? Ah, è una macchina radiocomandata Ma dimmi te Eh, devo ancora sbloccarla Ok, non c'è nessuno Usa questa Vai che ce n'è uno lì Eh, no Ha scappato Spara Ah, accidenti L'ho beccato in faccia E poi Vabbè, mi sono preso comunque dei punti Per l'assist I miei due compagni di squadra l'hanno fatto fuori Aspettate che provo ad andare su Purtroppo non ho la C20 da piazzare Giocare in due Uno piazza la C20 da una parte L'altro dall'altra Ok, ci si butta giù Mi butto giù senza guardare Là! Mi è esploso qualcosa alle spalle Buttagli tutto quello che trovo No! Eccolo lì dietro Mi sono bloccato Brutto match No! Non mi ha dato la kill Neanche l'assist Non mi ha dato un fico secco Eh, vabbè È così Spalle Ok, grande Che caspita è successo Siamo morti Quasi tutti e tre Sembrava che uno fosse passato Con il coltello Ah, eccolo lì Eh, va bene Ha trivellato i tre Vabbè Vediamo cosa ho combinato Vediamo cosa ho combinato Caspita Sono peggiore della mia squadra Sei kill Scusate Due kill e sei morti Aia Perfetto ragazzi Nuovo match Stessa mappa di prima È stata quella più votata Per il momento Sto sempre utilizzando La mitragliatrice Poi dovrò cambiare arma Che voglio provare qualcos'altro Ok, mazza questo qua Con lo scudo addirittura È iniziata Lancia una granata Lancia di quella Magari Mi capita come prima Che gliela lancio sul naso A qualcuno Stiamo vincendo lo scontro C'è nessuno La piazza da sopra Attenzione No Che mira penosa Ho preso Preso Però mi ha dato l'assist Accidenti Devo rimanere un attimo basso Ok Sì Qua Lasciamo perdere Mi aveva visto Mi aveva visto Aveva anche un'arma Più precisa Della mia Dove caspita È andata a finire Ho lanciato una granata Di qua Ah Incredibile Stavo per prendere uno Sul naso Di nuovo Infatti l'ho mancato Di pochissimo Come avete potuto vedere L'ho mancato Di pochissimo Grande L'ha fatto fuori E vabbè Sono in due però Beh Mi son beccato l'assist Anzi Due assist Mi son beccato Eh è dura Buttaci questa Poi andiamo esterni C'è il mio compagno Di squadra là Che ha fatto forse Fuori uno Infatti Eccolo qua C'è un cecchino Sì Eccolo là Ok grande Il tipo Ha provato a saltare Purtroppo Dobbiamo Camperare Leggermente Vedete che Provo a andare Dentro di qua Mi son dimenticato Che c'era anche questo Beh vi dico La mappa La conosco bene Chissà Su quel punto Mi insegue No Per fortuna Non c'è nessuno Che mi insegue Posso provare A uscire di qua Ok Il mio compagno Di squadra Sono tornato Dove ero Prima Perché Mi spari Per aria Perché Ok Non c'è nessuno Minaccia rimossa Evico eliminato Guardalo là sopra No Così sto sparando Il mio compagno Mi è esploso qualcosa Alle spalle È un giocatore Sì Un giocatore Abbiamo un radar Abbiamo un radar No Pensavo fosse una bomba Nelle mie spalle Non c'è nessuno Forse Sì È morto Sì È già stato silurato Non riesco più A beccare Nessuno Aspettate che Provo ad andare su Qua non c'è nessuno Posso vedere Tutto Ho preso Girava su se stesso Quello lì Ok Sul lato Fontile C'è uno Della mia squadra È riuscito a mancarmi È incredibile È riuscito a mancarmi Al primo colpo Aspettate Io trivello sempre Mi colpi In questo muro Perché si può magari Fare qualche kill Facilmente No Mio compagno di squadra Buttaci questa Ricarichiamo Velocemente Lancio granata Ce n'è una là Spero nel prossimo match Di giocare in un'altra Mappa Perché sennò Diventa noiosa La cosa Aia Sono tutti lì E mi fa fuori Te pareva Ok Sono un po' fuori forma Sono un po' fuori forma Macchina mortale Alleata in azione Oh Preso Preso qualcuno E me ne vado Turbo Uovi nemico Sopra di noi Obiettivo è quasi raggiunto Asseco Dove è andato Eccolo lì Quella Che banda Che banda No Mi ha dato l'assist Di nuovo Ok Non c'è più nessuno Lì dentro No Si è spostato E mi son preso la kill Però Aspettate che ho Le munizioni scarse Ho bisogno di un fucile E questo va bene Uh il fucileazzo a pompa Tanto non penso che Mi serva Per tanto Tempo Questo qua è con me O contro Ah no È con me Che no Basta ricaricare Ok è stato battuto Questo qua è con me Se magari si leva Grazie Si levi Ok Vittoria ragazzi Bel match Abbiamo vinto Ora possiamo riscuotere Il cecchino ha tentato di fregarmi Con una granata Flash Però l'ho comunque spaventato Perché ho iniziato a sparare Senza sosta Wow Che mitragliata Cos'ho combinato 4 kill e 6 morti Vabbè dai Me la sono cavata Perfetto ragazzi Siamo nella mappa cargo Nel porto di Singapore Altro death match Su questa mappa Ho realizzato 7 kill consecutive Non mi era mai successo Di Fare una serie Così positiva Su Call of Duty In realtà Normalmente di solito Sono molto più scarso Riesco a fare una kill 2 E poi vengo abbattuto Anch'io Ok Questa mappa qua Però mi piace abbastanza Mi piace abbastanza Non è piccolina Riesco a gestirmela Chi caspita Mi ha preso Dall'altra parte Shadow YouTube 2 Ok Magari Beccopollettone Qua dietro Pensare che Quel match Ah E' scappato via Quel match La Non ero partito Bene Poi all'improvviso Non poteva Fermarmi Più Nessuno Ok Non siamo più al comando Sto cercando di capire Dove Caspita Sono i miei avversari Ok Questo va con me No Anche lui con me Niente Faccio che andare con loro Attenzione Alle spalle Di nuovo il tipo di prima Preso in testa E sono diventato caporale Maggiore capo Io ho battuto quello là E alle spalle Mi ha colpito Un cecchino Non si spara Alle spalle Della gente No Quello l'ho lanciato Malissimo Ok Morto? Grande Ok Non c'è nessuno Qui sono i bordi Della mappa Conviene tornare In mezzo Ok No Pensavo fosse un giocatore Quella roba là No Però stavolta l'ho visto Stavolta l'ho visto Era Manu05 Uno dei ragazzi Che mi seguono Sul canale L'avevo visto Che passava di lì Avanti e indietro Mi sono preso Assist Sono scopertissimo Ma che caspita Che caspita era Sì vabbè adesso Non riesco a girarmi Sono ovunque Ovunque mi giri Ce n'è uno Preso Ho abbattuto Manu Gli ho restituito il favore Diciamo Gli ho restituito il favore Questo qua si è spostato Di lato Velocemente Attenzione Eccolo lì Mi son preso la kill Ho saldato anche Un mio compagno di squadra E sono morto Aspettate Di qua Ardalo Sapevo che ce n'era uno C'è sempre sto Caspita di shadow youtube Probabilmente sto tizio Giocherà solamente A questo titolo Eh la squadra avversaria È forte Niente Mi uccide sempre Sto tizio qua eh Probabilmente viverà La sua vita Su Call of Duty Attenzione Dov'è Eh vabbè Manu stavolta Non mi ha lasciato scampo Perché Non sapevo più dove andare Allora Vediamo se è ancora in zona qua Caspita Esploso Me ne vado di qua Uh ce n'è uno là Guardate che lo andiamo a sgamare Ok Ho abbattuto qualcuno O mi è arrivato solo qualcosa in faccia Mi è arrivato solo E là No eh Io me ne vado Ok è caduto un pezzo di legno dall'alto Qualche fenomeno Accidenti Niente Ci ha uccisi in due Sì vabbè Ha le armi dorate Avrà passato Metà della sua vita Su questo titolo Niente Niente Se Probabilmente hanno le armi più potenti Perché Alla pari Alla pari vincono sempre loro Però aspettate Niente Non sono riuscito a prendere l'arma Partita terminata Hanno vinto loro Ci hanno praticamente massacrati Vediamo quanto schifo ho fatto Il finale Il finale di questo fenomeno qua Che non si poteva tirar giù Allora Sì 16 morti e 4 kill Wow Che bella partita Perfetto ragazzi Ultimo match di oggi Siamo di nuovo sulla stessa mappa Spero di fare una più bella figura Rispetto a prima Ho preso le granate E MP Ok Tentato di fregarmi Charles Mi sono riparato dietro Al container Perché Ho rischiato di morire L'ho riempito di pallottole Nello stomaco Poi Allora scendiamo qua Stiamo perdendo Ok Allora Ho visto dei puntini rossi Ho visto uno Ok Ho abbattuto Manu Non mi ha visto Arrivare Dalla Destra E poi invece Il suo compagno di squadra Si è accorto che ero lì Si è accorto che ero lì Granata Attenzione Chi caspita ha lanciato Quella granata Non si sa C'è qualcuno che sta a sparare Cecchino Oi oi C'è un cecchino Lancio una EMP Si bello Mi sono preso in faccia Che caspita Eh vabbè Di nuovo Simone Mi sono trovato lì Un Simone addosso Praticamente Proviamo a seguire lui Adesso provo ad andare Per i fatti miei Lancio una EMP Ok grande Qualcuno dei nostri È riuscito ad attivare Il potere speciale Ho visto Il passaggio di un proiettile Guardalo Guardalo Quanti ne ho abbattuti? Due Uccisione tripla No 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 Ti prego Ok Ho attivato l'UAV Anch'io Perché mi capita poche volte Di Mi capita poche volte Di riuscire a Attivare il potere speciale Che caspita era Ah una granata Che è rimbalzata Sul container Un'altra caspita Di granata Dal solito tizio E che caspita Adesso te ne ho anche una Di granata Basta Ma quante caspita Di granate ha Sto tizio Toh Begati Che te è una granata Va Ma quante granate ha Guardate che rocca Ci siamo ammazzati A vicenda Ma va Ha avuto la meglio lui Ma quante caspita Di granate aveva Quattro Cinque Boh Ok C'è nemmeno di là Non lo vedo più Eh vabbè Ciao Visto che stava Sparando alle spalle No Via 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 Ok Grande L'ha abbattuto Mazzata delle scatole, adesso abbiamo anche il radar a zero, meno male che l'hanno abbattuto no ho beccato il soffitto con quella granata ok, devo aver danneggiato qualcuno c'era qualcosa che si stava caricando no, che caspita era dobbiamo affacciarci di qua attenzione ai cecchini no no, l'ho abbattuto mamma mia però non era quello che stavo cercando eh, stavano arrivando da dietro purtroppo, stavano arrivando da dietro mancatevi sta MP wow, lanciata benissimo no mi stanno triturando eh, si è vendicato si è vendicato no, sono io ragazzi, sono io però ci stanno massacrando sono a 71,54 niente, dall'altra parte sanno giocare vediamo se esce niente, partita terminata c'era anche uno lì in alto a destra boh, vediamo come è andata a finire cosa ho combinato più che altro ah, guardatelo era quello che volevo prendere niente, ha massacrato il mio compagno di squadra dentro al container 7 a 10 peccato si beh, eravamo 4 contro 6 praticamente va bene ragazzi eccoci tornati nel menu principale di Call of Duty Black Ops 2 multiplayer direi che possiamo terminare questo episodio qua come sempre ho giocato alcuni match su Black Ops 2 diciamo che votazione finale mi darei un 6 6 e mezzo perché alcuni match li ho giocati abbastanza bene altri invece proprio da buttare ragazzi spero comunque che questo video vi sia piaciuto naturalmente se volete provare a giocare con me su Call of Duty Black Ops 2 per Wii U basta inviarmi l'amicizia sul profilo Joppa17Cod e osservare sul canale ogni domenica il video Info Time Nintendo in cui vi annuncio quando sono online durante la settimana il giorno e l'orario ragazzi come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Call of Duty Black Ops 2 alla prossima ragazzi